Ci farà bene oggi prendere un po' di tempo di preghiera, con la memoria del nostro cammino, la memoria delle grazie ricevute, la memoria delle lezioni, della promessa, dell'alleanza, e cercare di andare su, verso l'adorazione, e messo dell'adorazione, con tanta umiltà, dire soltanto questa piccola preghiera, ascolta e perdona.